Ciao a tutti, allora eccomi di nuovo qui, adesso voglio parlare un po' del calciomercato dell'Inter Allora raga, mi è stata a bombardare sotto i video, anche ieri nella live Mi chiedevate in tanti, Sara ma quello si prenderà? Ma quell'altro si prenderà? Ma quell'altro ancora si prenderà? Che ne so io raga, io ne so quanto vuoi, non sono una giornalista, non faccio la finta giornalista Quella che sa tutto, quella che assolutamente no, non lavoro per l'Inter, non sono nella società dell'Inter per dirvi quello che l'Inter sta combinando Non lo so e neppure voglio fingere di sapere come fanno tanti e tanti tanti Per cui raga non lo so, io sono una tifosa come voi che sta aspettando come voi che l'Inter faccia questo benedetto colpo Perché sappiamo benissimo che l'Inter ha bisogno di rinforzi Cioè la squadra dell'Inter, l'Inter come squadra ha tanti diciamo buchi da colmare Cioè ho anche negli ultimi giorni letto le dichiarazioni di Nagatomo Sarei felice se l'Inter... No, tu devi sparire, vi prego raga, vi prego facciamolo sparire noi E altrimenti io non posso e non voglio cominciare la stagione e vedere Nagatomo sulle fasce Questa cosa io proprio non la voglio Io non guarderò più le partite se deve essere così raga, no Allora, a me queste cose danno i nervi, capito? Perché tu in primis giocatore devi essere consapevole Cioè devi autocriticarti e dire A questa squadra ho dato quello che avevo da dare Non ho più niente da dare, me ne voglio andare Cioè fatemi andare via Tu in primis lo devi dire se sai che sei un bidone patentato E non che addirittura ti metti a dire Se l'Inter avrà bisogno di me, sarò felice così No, vi prego, no L'Inter ha bisogno di rinforzi Ovviamente io non parlo di delusione come fanno tanti altri Perché tantissimi adesso mi stanno anche a scrivere sotto i video Sono deluso, sono deluso dall'Inter, da questo calciomercato Fate sempre i paragoni col Milan L'ho detto anche nel video precedente Guarda un po' il Milan, cosa sta Allora, il Milan ha da giocare l'Europa Vi ripeto ancora una volta Questi acquisti comunque Voglio dire, tu devi andare anche a vincere l'anno prossimo qualcosa E altrimenti i debiti veramente ti soffoca, no E in più, nel momento in cui rivoluzioni in questo modo La tua squadra devi anche saper creare quell'intesa tra i giocatori Perché è veramente difficilissimo creare la giusta intesa Tra giocatori diversi Giocatori che si sono ritrovati nella stessa squadra ora Perché si sta parlando veramente di un mercato vastissimo Quello del Milan è veramente un mercato vastissimo Per cui poi amalgamare bene il tutto sarà veramente complicato I complimenti ovviamente stanno da fare al Milan Perché si, per le cose giuste Però non state sempre a dire l'Inter di qua, l'Inter di là Allora io non vi sto facendo più video di calciomercato Trattative, perché comunque le trattative in corso ci sono Purtroppo portare i giocatori all'Inter Giocatori di un certo calibro è anche un po' complicato Perché ovviamente noi l'anno prossimo non andremo a giocarci nulla Solo lo scudetto, per cui capite se un giocatore è in una squadra Che lotta anche per l'Europa Ovviamente c'è un giocatore che è in una squadra Che magari l'anno prossimo andrà a giocare la Champions Lo chiama l'Inter e questo qua dice Sì ma mi conviene, mi conviene in una squadra che Deve soltanto andarsi a giocare lo scudetto Quando invece posso competere in Europa Bisogna trovare il giocatore che è disposto a far parte di un progetto futuro Che possa portare all'Inter Che possa portare l'Inter comunque dove gli compete Perché non si può più vedere, c'è una vergogna Se sto posto così con la... è una vergogna L'Inter senz'altro deve muoversi Nel senso deve fare acquisti Perché anche io sono d'accordo sul fatto che prima li fai meglio è Perché prima fai l'acquisto più tempo hai per inserirlo Vedere un po' come gioca tutto quanto Creare intesa Questa benedetta intesa che l'anno scorso praticamente c'è mancata E si è visto proprio in maniera lampante Bisogna creare intesa tra giocatori, legami, in campo E quindi un giocatore prima arriva Come disse Spalletti anche in conferenza Prima arriva meglio è così O più tempo per lavorarci insieme Quindi su questo sono d'accordo Però appunto la difficoltà sta proprio nel trovare un giocatore Che accetti di partecipare a questo progetto Perché comunque l'obiettivo dell'Inter è quello di arrivare almeno in zona Champions L'anno prossimo Speriamo di riuscirci Però vi ripeto L'Inter ha tante lacune Ha tanti buchi che andrebbero colmati con i giusti giocatori Non se ne può più neppure di questa storia di Perisic Sinceramente un giocatore Quando se ne vuole andare Secondo me se ne vuole E se ne deve Se ne deve assolutamente andare Perché in campo non riuscirà mai a dare il 100% E' successo un altro episodio di Perisic Tra l'altro Ero indecisa se farci un video Poi alla fine ho detto no Cioè raga no Di lui che a quanto pare ha preso a parole All'inizio si pensava un tifoso Tutti l'avevano attaccato perché aveva preso a parole un tifoso Poi lui stesso sulla sua pagina Instagram Ha detto che non si trattava di un tifoso Ma se non erro di un giornalista Però vi attaccate troppo raga A queste cacchiate Troppo Cioè questo qui pure comunque è stressato Cioè è al centro comunque di Varie polemiche Perisici in questo periodo Per cui se una Cioè lui è umano Non è che alieno Se un giorno gli va storta raga Come va storta a tutti noi Dove sta il problema? Perché dobbiamo ogni volta crocifiggere una persona? Io per carità l'ho criticato Quando lui si è messo a partecipare al torneo di volley Perché è una cosa che va contro anche la società dell'Inter Cioè potevi avvisare prima di fare una cosa del genere Dove puoi anche rischiare un infortunio e tutto quanto E lì quella è un'altra storia Però dai Attaccarci a queste cose Crocifiggere una persona Io senz'altro sono d'accordo sul fatto che lui deve andare via Però non sono neppure d'accordo col fatto che l'Inter si deve per forza Necessariamente piegare alle volontà del Manchester United Oh raga Quella è la somma che devono sborsare? Quella è la somma E non che dobbiamo sempre Sta a fare scontini di qua Scontini di là No E infatti questa presa di posizione Da parte dell'Inter A me piace Ovviamente Spero che l'Inter Possa comprare qualcuno di valido Giocatori veramente validi Nel senso che ti cambiano la partita Sei sicuro che ti cambiano la partita Vedremo Vedremo Però raga Non mi fate mille domande riguardanti il calciomercato Perché io sono come voi Cioè io mi scarico app sul cellulare come voi Guardo i programmi in tv come voi Non lavoro nell'Inter Non lavoro nella società dell'Inter Non parlo con i dirigenti dell'Inter Non sono una giornalista che ha contatti Con non so La società dell'Inter Alcuni Vogliono Vogliono spacciarsi per giornalisti Qui su Youtube Si spacciassero pure Però io non lo farò mai Non voglio darvi false notizie Per poi venire qui E vergognarmi del fatto Che magari vi ho detto qualcosa Che Non era vero E alla fine Non è andato in porto Per cui preferisco Essere una come voi Che magari si mette qui A parlare Discutere con voi Anziché Mettervi lì Notizie sul piatto Che poi alla fine Non esistono neppure Fatemi sapere Quello che pensate voi So che in tanti siete delusi E tutto quanto Però raga Purtroppo non ci resta Che aspettare Aspettare Vedere un po' La situazione Come si andrà ad evolvere E nulla Io vi do appuntamento Al prossimo video Vi ricordo ancora una volta Oggi pomeriggio Probabilmente farò Un'altra live Per cui se siete interessati Sintonizzatevi su Youtube E stasera Se non esce nessun imprevisto All'ultimo minuto Vi porteremo Il derby Tanto richiesto Tra me e il mio fidanzato Per cui rimanete Sintonizzati qui sul mio canale Se volete Potete anche aggiungermi Sul profilo Facebook Che vi lascerò Qui nell'info box Potete anche Contattarmi su Instagram E nulla Io vi do appuntamento Al prossimo video E vi auguro Una buona giornata